ok vediamo 40 partite a settimana guardiamo il colpo che abbiamo trovato 3 2 1 via ma no, zappata sempre zappata è il terzo zappata che trovo doppione che trovo Arnold Zappata è due un frizz oh, zappata allora faccio trovare il terzo iniziale otto e cinque cinque mila credito cinque capi all'interno Quattro a carpello non frissi non ti attraverso un po' così un po' così il primo pacchetto il secondo pacchetto bello bello Gakpo oggetto speciale bello 80 sim bello 80 sim bello Gakpo bello 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 Allora Alla va che è che buona, non lo ti ha detto. Grazie a tutti. Un po' non so, non è che è stato un grande questo, vabbè, ok.